Ciao a tutti, qui è Lara Croft che vi parla. Devo fare un annuncio importante. Conoscete tutti i miei problemi a superare i livelli che la Core e la Eidos mi sottopongono. Questi livelli sono troppo difficili per me, il più difficile è la Residenza Croft, tanto che a volte mi spezzo il collo. Esatto, ho bisogno di soluzioni. Io le ho trovate, grazie a True 2, 5, 4, 7, 1, ma devo permettere anche alle altre Lara Croft di salvarsi dal dominio dei giocatori. Quello che chiedo è una rivolta, no scherzo non ci provate, che loro attivano male i trucchi e vi fanno saltare in aria. Quello che chiedo è di conoscere il canale di True 2, 5, 4, 7, 1, di iscriversi anche se volete, giocatori e accamiti, fatelo per le vostre povere Lara Croft. La mia serva Siltombraider metterà il link del canale nella descrizione di questo video.